Musica Sabato 18 maggio, buongiorno Friuli dalla redazione di Udinews TV, la nostra prima ora di diretta assieme come al solito per sfogliare i quotidiani nazionali e locali per parlare di sport. Oggi è il gran giorno della sfida tra Udinese e Spalla alle ore 15 alla Dacia Arena, andremo ad approfondire e a vedere quali saranno le possibili mosse tattiche di Mr. Tudor che ieri ha parlato in conferenza stampa, ma torneremo naturalmente anche sui vari fatti di giornata. Partiamo dando un'occhiata a come si sta risvegliando la nostra regione, partiamo dando uno sguardo alle webcam che ci arrivano dal territorio, qui siamo sull'altopiano del Montasio dove compare ancora la neve, c'è un cielo velato sullo sfondo. E poi ci spostiamo ancora sul Lussari, anche qui la neve nel borgo Tarvisiano con il cielo annuvolato. Andiamo ad ascoltare dunque quali saranno le previsioni di giornata con Eleonora Nocent. Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di sabato 18 maggio. Su tutta la regione cielo coperto, salvo qualche temporanea schiarita su Costa e Tarvisiano. Piogge sparse più frequenti dal pomeriggio in genere abbondanti, localmente più intense e temporalesche, specie ad ovest e sulle prealpi. Su pianura e costa soffierà vento moderato tra est e nord-est. Le temperature. Sulla costa 12-14 gradi di minima, 17-19 gradi di massima. In pianura 10-12 gradi di minima, 16-19 gradi di massima. A 1000 metri 9 gradi e a 2000 metri 2 gradi. Una arrivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Ci spostiamo ora sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia col sito Info Viaggiando. Al momento la situazione, come potete vedere, non presenta particolari criticità. Ci sono i consueti cantieri restringimenti dallo snodo di Palmanova verso Porto Gruaro e poi anche all'altezza del Lisert verso Trieste. Ma fate attenzione perché da questa sera, come possiamo leggere nell'avviso, dalle ore 21 di questa sera alle ore 12 di domani, domenica, ci sarà la chiusura del tratto Porto Gruaro-Bivio A4-23 in entrambe le direzioni di marcia per lavori lungo la Venezia-Trieste. È chiusa l'entrata Porto Gruaro in direzione Trieste-Udine, chiuse le entrate di La Tisana e San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni, così come a Palmanova in direzione Venezia, è aperta invece in direzione Udine. Dalle 18 fino alle 12 ci sarà anche la chiusura dell'area di servizio Fratta Sud, Fratta Nord, Gonars Sud e Gonars Nord. Quindi per chi debba mettersi in marcia stanotte il consiglio è quello di muoversi direttamente sulle strade e sulla viabilità ordinaria. Andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. I temi che tengono banco a una settimana o poco più dal voto per l'europea presentano ancora, come possiamo vedere dalla prima del Corriere, le tensioni tra gli alleati di governo, l'ora delle offese tra gli alleati, le definisce il Corriere, perché Di Maio attacca Salvini dicendogli è un pugile suonato, la replica del ministro degli interni, e nessuno mi dà ordini, neanche Conte. Sul caso Sea-Watch, smentita la linea dura del Viminale, autorizzato lo sbarco di 18 migranti. Parla poi anche Di Battista, che dice Matteo Lavori, no al marketing, sia la flat tax è fatta bene, ma Salvini si metta all'opera, così Alessandro Di Battista attacca il leader leghista, e naturalmente la corsa tra le due forze di governo ad accaparrarsi i più voti possibili nel voto delle europee. Dalla prima del Corriere troviamo anche la storia di Gabriele, 15 anni, ucciso a Treviglio, qui mi investono travolto sulla strada senza pista ciclabile. A centropagina invece lo sport, la notizia di ieri dell'addio di Max Allegri alla Juventus, finisce l'era Allegri, lo scontro con Nedved, il divorzio tra l'allenatore e la società, dopo cinque scudetti consecutivi finisce l'avventura, l'ultimo scontro come detto con Pavel Nedved, tra i nomi più gettonati Sinisa Mihailovic, Simone Inzaghi e il sogno Pochettino, ne parleremo naturalmente nella seconda parte con lo sport. Dal Corriere andiamo a dare un'occhiata alla prima di Repubblica, che invece ci presenta la giornata odierna, perché oggi a Milano ci sarà il raduno di Salvini con tutte le forze di destra europee, i sovranisti, 11 capi partito presenti in piazza, gli organizzatori sperano in un corteo di 100.000 persone, il tantam della Lega in tv e sui social siamo sotto attacco. La protesta, tutto è cominciato con i pompieri di Brembate che ne tolsero uno, i lenzuoli della libertà saranno tantissimi, anche numerati da 1 a 49, come i milioni del carroccio spariti. E poi ancora su Repubblica alcuni spunti, l'insegnante punita, sono una donna libera, così educo gli studenti. E poi l'intervista a Nigel Farage sulla Brexit, che si farà e comanderò io il leader che ha fondato il nuovo Brexit Party in Inghilterra e nel Regno Unito per il voto alle europee e che secondo i sondaggi si attesterebbe al primo posto proprio nel Regno Unito. A centropagina anche la Repubblica mette Max Allegri in primo piano, vincere un po' fallire il divorzio di Allegri, così lo racconta Gianni Mura quest'oggi dalle pagine di Repubblica. Ci spostiamo ora sulla prima del Quotidiano Libero, con il titolo Milano, si tinge di verde. Oggi Salvini in Piazza Duomo, il capo del carroccio convoca il suo popolo per il comizio sulle europee, parlerà di famiglie e alle famiglie alla gente normale, mentre giudici, giornali e poteri forti lo attaccano. Di Maio lo insulta, sei come Renzi. La replica di Salvini a Conte non si azzardi a darmi ordini sugli immigrati. A centropagina, pure Libero, sceglie di mettere in primo piano Max Allegri, licenziato come una serva ad ore, dopo cinque scudetti vinti, Allegri via dalla Juventus. Ci spostiamo ora sulla prima pagina della stampa di Torino, che invece sceglie il tema del decreto Salvini e la bocciatura del Premier Conte. A centropagina, invece, Napoli, la Spagna, si riprende i quartieri per ristrutturarli. Dalla stampa andiamo ora sulla prima pagina del gazzettino, simile al titolo. Migranti, Salvini, Sfrattaconte, porti chiusi, il ministro, non c'è Premier che tenga, e lui lo gela, corrino io, Di Maio, Matteo, arrogante, come Renzi. Di taglio alto, un fatto di cronaca che arriva dalla provincia di Padova, l'autista ubriaco si ribalta con lo scuolabus, 11 feriti, fugge dopo l'incidente, l'uomo aveva già vari precedenti. E poi, governo e ferrovie in campo, la TAF del Veneto si farà. A centropagina, la storia di Franceschi, a 50 anni, torno a vivere, il patron della grafica Veneta, il mio primo mezzo secolo, l'azienda e poi la malattia. Di taglio basso, sul gazzettino si ripropone la storia di Andreisi, il paese in provincia di Pordenone, dove nessuno vuole fare il sindaco. Vi ricorderete, vi avevamo proposto anche noi l'intervista al sindaco uscente, proprio dopo la presentazione delle candidature, perché nel borgo non si è candidato nessuno e quindi arriverà il commissario, almeno per un anno. Poi si vedrà se nel paese si riusciranno a trovare dei pretendenti per la gestione del municipio. Andiamo sul giornale che esemplifica così, rissa totale, botte tra i gialloverdi, Salvini sbarchi, non prendo ordini da conte, Di Maio, Salvini è più arrogante di Renzi, i 5 Stelle, la Lega copre i suoi corrotti. A centropagina poi il costume, con le finte nozze di Pamela Prati, non sono farina della suo sacco, le polemiche che continuano sulle TV. A centropagina, al conto dell'attenzione politica, già 900 agenti in ospedale, allerta per il comizio della Lega oggi a Milano, e poi il divorzio shock, Juve Allegri, signora caccia di un mister. Andiamo avanti con il fatto quotidiano, che invece si occupa delle elezioni europee e dei cosiddetti impresentabili nelle Euroliste. Questi sono quanti il fatto mette alla Berlina, i sconsigli per il voto, 22 condannati, imputati, indagati, prescritti, in corsa per il Parlamento. Chi li conosce li evita, e ci sono Silvio Berlusconi, Cinzia Bonfriscola, Raccomi, Angelo Attaguile, Lorenzo Cesa, Aldo Patriciello, Raffaele Fitto e Pietro Tatarella. Lasciamo anche il fatto quotidiano, andiamo sul Sole 24 Ore. Tesoro al Test Mercati, in due mesi emetterà titoli per 64 miliardi, e poi c'è la Torre Eiffel, con le Blue Car, lo scontro Bollorè-Pininfarina, Lavoro sul reddito di cittadinanza, obblighi e sanzioni solo sulla carta. Chiudiamo la nostra carrellata di prime pagine con il manifesto, che invece nella grande foto a centro pagina racconta la buona scuola, la solidarietà di Palermo, con la docente sospesa per il video degli alunni contro le leggi razziali e il decreto sicurezza. Torni subito in cattedra, studenti, insegnanti, sindacati, in piazza, il caso finisce in Parlamento, e Salvini prova a disinnescarlo, dicendo voglio incontrarla. In taglio alto, il governo alla deriva sulla Sea-Watch, Salvini contro i 5 Stelle, ha autorizzato lo sbarco di soli 18 migranti su 65. Andiamo ora sui quotidiani di Casa Nostra, le prime pagine, le pagine interne del Messaggero Veneto, che apre oggi con il punto sul reddito di cittadinanza, le richieste giunte dalla nostra regione, regione e anche le bocciature, perché un terzo delle domande non sono state accolte. Respinte 2.800 richieste, sulle 8.000 complessive, code i CAF per chiedere spiegazioni, e l'avviamento al lavoro, ha visto anche la gara per i navigator, ci sono 46 posti, i candidati erano oltre 700. di taglio alto la storia di Ale, una terapia per cambiare sesso, da Sacile, la storia di Alessandra, che a 30 anni ha deciso di diventare un uomo. La cronaca giudiziaria, la Corte dei Conti, che condanna l'ex soprintendente per rimborsi non dovuti, mentre sullo scandalo vaccini, l'assistente sanitaria trevigiana, Emanuele Petrillo, finisce a giudizio, ieri la decisione del gruppo a Udine. Poi in questa foto, il messaggero si occupa di una nuova polemica di campanile tra Udine e Trieste. Nella vignetta triestina, Mandi diventa il verso di un animale, quanto emerso da un sito di Trieste, e naturalmente è scaturita la polemica. Il lutto invece per la scomparsa di Italo del Negro, da calciatore, è poi diventato presidente delle BCC regionale, si è spento ieri all'età di 79 anni. A Udine città ancora la questione viabilità, con il semaforo che scompare in Viale Palmanova, arriva la nuova rotonda all'incrocio con Via Partidor, si sono quasi ultimati i lavori. Lo sport, oggi l'ennesima sfida salvezza, e poi occhio agli altri campi, Udinese Spal, alle ore 15, il divorzio tra Allegri e la Juve, arriva al Campolinea, alla storia, con la società degli Agnelli, che cambia allenatore. Andiamo all'interno per riprendere alcuni di questi argomenti, partiamo proprio dal reddito di cittadinanza, che vede tanti delusi anche nella nostra regione. È stato bocciato un terzo delle domande, sulle 8 mila richieste, 2 mila e 800 sono state respinte, e spesso l'importo è inferiore alle attese. Code ai CAF per chiedere spiegazioni, per lamentarsi dell'esito della pratica. Vedete anche poi le percentuali degli importi di questi assegni. Si va dai 40 a 50 euro nel 7% dei casi, poi il dato più alto con il quasi 30% interessa a 137 mila domande, dai 300 ai 500 euro, oltre ai 1000 euro ci arrivano solo in 25 mila il 5,4%. Sul fronte Navigator a giugno potranno essere operativi, nelle 4 province saranno 46, ma sono state ben 717 le domande presentate. Continuiamo a sfogliare il quotidiano, spostandoci sui temi politici, con gli alleati che chiedono una verifica su Saro, perché questo accade in ambito regionale, e nei giorni scorsi Saro ha lanciato l'invito a favore di più Europa, la lista di centro-sinistra che si presenta alle elezioni europee, e da lì è partito l'attacco di Forza Italia. Fratelli d'Italia, la stessa Lega, la risposta di Bini dice si è mosso a titolo personale, mentre di Berti, il capogruppo di Progetto FWG, la componente creata proprio da Bini e Saro, non vuole parlare. Quindi naturalmente tensione all'interno degli alleati alla guida della giunta del Friuli Venezia Giulia. La giudiziaria con il processo sui prosciutti DOP realizzati con bagnali danesi, dieci patteggiamenti, un filone d'inchiesta che ha interessato anche la nostra regione. Per quanto riguarda invece il caso Picchione, la ricorderete, l'ex soprintendente ai beni architettonici, con rimborsi non dovuti, è stata condannata dalla Corte dei Conti, aveva ottenuto gli indenizi per le trasferte a Udine e Roma, ma non ne aveva diritto. Lo scandalo vaccini invece Petrillo ha processo, ma la difesa insiste, non è una Novax. Ieri la decisione del Gup Faleschini-Barnaba in tribunale a Udine, il processo inizierà il 24 settembre, andiamo ad ascoltare ora le reazioni proprio dei legali da un lato di Emanuela Petrillo, l'Avvocato Salandin, dall'altra l'Avvocato Baggio che tutela l'azienda sanitaria di Udine che ha chiesto centinaia di migliaia di euro di risarcimento. Avvocato, rivela il giudizio, ve lo aspettavate? Sì, ce lo aspettavamo, chiarirà definitivamente nella sede opportuna delle responsabilità. Lei cosa continua a dire? Che ha eseguito in maniera corretta le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono state fatte ma non risultano? Non risultano, di che valuteremo poi in dibattimento la dinamica dei fatti contestati. Come motiva il fatto che secondo gli esami non c'erano queste vaccinazioni? Il campione è molto limitato e su questo discuteremo, quindi non è stata fatta una valutazione più ampia. Sì, sì, ce lo aspettavamo e siamo soddisfatti. A questo punto supporteremo il PM nel quadro indiziario per la condanna dell'imputato e il risarcimento del danno patrimoniale che ha subito l'azienda. Si riesce a dire quanto potrebbe essere il danno patrimoniale? Noi abbiamo chiesto una somma pari a circa 130.000 euro perché la posizione dell'azienda sanitaria di Udine è a meno importanza rispetto al danno che l'imputata ha cagionato all'azienda sanitaria di Gemona perché ha lavorato prevalentemente presso il distretto di Codroipo. Sì, era abbastanza chiaro che dovesse essere inviata a giudizio perché gli elementi documentali e testimoniali erano tali che anche senza la perizia avrebbe comportato un rinvio a giudizio. La perizia noi riteniamo che chiude il cerchio su quelli che sono gli elementi di prova contro la dottoressa Petrillo. I reati sono in continuazione. I primi reati sono stati commessi già dal 2009 secondo l'ipotesi accusatoria a Codroipo quindi in provincia di Udine e quindi è corretta il radicamento a Udine. Al momento l'azienda di Tidigiana ha quantificato in 300.000 euro se non vi saranno richieste di danno da parte delle famiglie. Torniamo sui quotidiani. La storia che propone oggi il messaggero arriva da Sacile a 30 anni Alessandra diventerà Ale ho deciso di essere ciò che sono ovvero un uomo di professione digital marketer racconta le tappe della sua metamorfosi voglio aiutare chi vive la stessa sofferenza. Sul fronte economia invece sul messaggero in apertura c'è il processo per le popolari venete che parte nel CDA non sapevano di quelle operazioni la prima udienza che appunto scatta con le varie posizioni delle parti in causa. A Udine città ancora il tema rifiuti che tiene banco la NET che fa il record di fatturato e recupera il 90% dei rifiuti. L'impianto di San Giorgio di Nogaro riesce a sfruttare l'indifferenziato ma l'obiettivo resta quello di migliorare ancora la raccolta. E' questo anche l'elenco delle varie percentuali di differenziata nei comuni serviti proprio dalla NET si va dal 60% a sfiorare l'80% in alcuni casi con matricesimo anche l'84% di differenziata. Per quanto riguarda poi le novità è possibile chiedere anche il taglio dell'erba mentre per quanto riguarda gli investimenti il Presidente Cucchini spiega c'è stato un investimento di un milione per acquistare mezzi e attrezzature. Vedete anche poi le varie stime sui costi della Tari dal 2017 al 2018 rapportate nelle varie città più o meno simili per numero di abitanti a Udine e nell'area del nord-est. Udine con 160 euro vede una posizione migliore sicuramente anche di Pordenone, Bolzano, Brescia Trento e Verona. Queste dunque le cifre messe in luce dal messaggero Veneto. All'interno ancora con le pagine di Cronaca Cittadina c'è il caso di una sordomuta che si è finta tale ha tentato una truffa in via Mercato Vecchio una ragazza che pare anche incinta si avvicina ad una adolescente prima gli fa firmare un documento e poi chiede denaro. E poi a Cussignacco invece un faccia a faccia coi ladri di notte tranquilla non preoccuparti un'ottantenne si è ritrovata due individui incappucciati in camera da letto niente segni di effrazione sulla porta d'ingresso è stata forzata invece una di quelle interne lasciamo le pagine del messaggero e ci spostiamo sul gazzettino in apertura ritroviamo il caso Petrillo vaccini la Petrillo va a processo l'assistente dispresiano accusata di avere solamente finto di eseguire le iniezioni per la profilassi dei bambini l'inchiesta riguarda il periodo tra il 2009 e il 2016 la prima udienza è stata fissata per il 24 settembre di taglio alto il premio Terzani è il giornalista che ha nel mirino i potenti dei social F.E.R. che verrà premiato questa sera al Teatro Nuovo Giovanni D'Audine tra poco lo andremo anche ad ascoltare nella nostra intervista rilasciata ieri e poi a Trieste c'è un rettore friulano con l'elezione di Di Lenarda che annuncia collaborare l'unica strada tra i due atenei fronte infrastrutture arrivate solo due osservazioni grillini serve più tempo stiamo parlando dell'elettrodotto Wurmlak Sonplago con i 5 stelle che vanno all'attacco a centro pagina invece c'è lo spiraglio per 50 famiglie stiamo parlando del caso della DM Electron perché entro la fine del mese l'azienda aveva fissato la data entro la quale si spegnevano poi le garanzie per l'occupazione la regione è intervenuta e ottiene il congelamento dei licenziamenti poi ancora la caso dell'ex soprintendente che dovrà pagare una multa di 10.000 euro per il caso omissioni la Corte dei Conti contesta le spese e dovrà rimborsare quanto ha avuto di taglio basso lo sport l'udinese ci arriveremo tra poco nella seconda parte tre punti per non soffrire più la sfida alla spalla le ore 15 in una Dacia e Arena tutta esaurita andiamo all'interno per recuperare alcuni di questi argomenti partiamo dalla DM Electron si apre dunque uno spiraglio per gli operai vogliamo salvare i posti congelato l'invio delle lettere di licenziamento la regione i piani dell'azienda saranno all'esame delle finanziarie Bini dice al vaglio la sostenibilità dei progetti proposti i sindacati aspettano alla finestra a Trieste un rettore friulano collaboreremo con Udine la mamma di Lenarda e di Nimis il papà di Sedegliano e dice non temo la cannibalizzazione a lavorare insieme ci guadagniamo tutti andiamo ancora avanti con il caso Petrillo che il gazzettino racconta così anche con i pareri degli avvocati abbiamo sentiti alcuni prima accusata solo sulla base di una statistica ha detto Salandin Benazzi invece sono fatti gravissimi finalmente si farà a chiarezza la donna secondo l'accusa non avrebbe inoculato i sieri ai piccoli un altro caso di cronaca arriva da Padova ma interessa una giovane pordenonese è stata trovata morta da due giorni in casa vicina ad una siringa Angela Tonus 26 anni probabilmente è stata uccisa da un overdose il corpo rinvenuto in un appartamento a Cavino di San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova stupefacenti come valvola di sfogo da una vita costellata di problemi stava cercando di ricostruirsi un'esistenza lontano dai fantasmi del passato è arrivato il dramma in terra padovana per quanto riguarda poi il gazzettino abbiamo visto in apertura che è stato annunciato l'appuntamento di questa sera con Vicino Lontano con la premiazione ufficiale del premio Terzani allora andiamo ad ascoltare l'intervista rilasciata da Franklin Foer autore del volume i nuovi poteri forti ovvero su Facebook e Amazon rilasciata all'Oceania Delfonso uno furto della privacy legalizzato come ci si può difendere da questo tramite i social media? non c'è realmente modo di proteggersi da Facebook Facebook prenderà e controllerà la nostra privacy e non ci sarà veramente modo di tutelarci in alcun modo guardando proprio a questa fascia d'età tra i 12 e i 18 sono coloro che sono cresciuti con i social media e si rendono conto di quanto manipolatori questi social media possono essere se si è nati nella generazione che è cresciuta con Facebook e con Instagram e che trova normali questi social media è più facile rendersi conto che questi social media non sono degli strumenti magici ma sono delle piattaforme che possono essere usate nel bene o nel male e questo mi porta ad essere fortemente ottimista nel senso che credo che i giovani si renderanno conto dei pericoli che questi strumenti comportano Continuiamo con le pagine porrenonesi del Messaggero Veneto si parla della Savio l'azienda impiegata nella realizzazione delle macchine tessili 75 esuberi tra i 423 dipendenti aziende e sindacati hanno sottoscritto un primo accordo per l'uscita volontaria se entro settembre non si raggiungerà l'obiettivo si valuteranno altri percorsi e poi il caso Seleco ieri vi abbiamo raccontato della dichiarazione di fallimento della società il buco a quanto pare tocca i 17 milioni di euro il curatore nominato dal tribunale al lavoro preoccupano le cifre dello stato passivo il 2 dicembre è fissata la verifica decisiva andiamo anche sulle pagine goriziane del Messaggero l'apertura del dorso cittadino ci parla dei controlli antivelocità incubo autovelox per chi corre troppo già 50 appostamenti in 4 mesi nel 2018 furono 108 il comune non c'è nessuna volontà di fare cassa c'è anche l'elenco delle vie più controllate eccole qua ne voglie goriziane in testa via la terza armata e poi via 4 novembre per quanto riguarda i telelaser c'è il vice sindaco Ceretta che dice via i cartelli di avviso ha scritto al governo mentre c'è il comitato che torna alla carica per i troppi camion in centro città va utilizzato di più l'autoporto abbiamo anche l'apertura di Monfalcone con la città dei cantieri che vede alla Monte Carlo non solo yacht a motore ma sbarcano anche i maxi a vela della francese CMB si tratta dei modelli 6.6 e 7.6 piedi la produzione viene trasferita da Bordeaux saturata dal boom di ordini dei catamarani dunque il polo della nautica del desert amplia l'offerta andiamo ora anche sul piccolo di Trieste che apre proprio con l'elezione del nuovo rettore a Udine arriva a Pinton al posto di Detoni a Trieste è stato scelto di Lenarda ora cambiamo passo al ballottaggio il medico ha avuto 407 voti solo 252 la rivale Vianelli per quanto riguarda dunque l'Ateneo Giuliano inizia il dopo Fermeglia le altre notizie in prima sul piccolo SGT votata la sfiducia a presidente e direttivo l'assemblea straordinaria per l'associazione della ginnastica e poi anche sul piccolo picchione condannata a restituire 11.000 euro l'ex soprintendente sanzionata dalla Corte dei Conti fondi per la sicurezza 900.000 euro a Trieste lo stanziamento della giunta Fedriga mentre si parte con il grande show dei tuffi dall'Ursus il pontone superstar andiamo anche all'interno per leggere alcune delle dichiarazioni del nuovo rettore triestino incoronato da prof studenti e impiegati l'ex numero 1 di scienze medico tiene al ballottaggio 407 preferenze contro le 252 della sfidante l'affluenza è stata del 74% la candidata sconfitta come commenta e la sfida era tosta non è andata male sono pronta subito a dare una mano il vincitore invece dice in questi anni si è perso il senso di appartenenza lavorerò per ricostruirlo il Neoletto non risparmia critiche anche al predecessore e marca subito le distanze colui troppa burocrazia e procedure iper farraginose serve subito un cambio di passo poi ancora la strada non sarà in discesa visto l'attuale sottofinanziamento della ricerca andrò incontro agli iscritti per aiutarli a fare al meglio il loro dovere queste le parole le prime parole del nuovo rettore ricordiamo Friulano comadre di Nimis e padre di Sedegliano ci fermiamo qui per questa prima parte tra poco di nuovo assieme per parlare di sport avvicinarci alla sfida del pomeriggio alla Dacia Arena unese spalla e non solo grazie a tutti grazie a tutti